E' stata la manifestazione del centro Italia più importante dedicata al vintage a Castiglion Fiorentino e si è conclusa a Ferragosto 5 giorni di collezionismo, musica, ballo e gusto, un mix vincente nella settimana più calda dell'anno. Con professionisti dell'intrattenimento, maestri ballerini che hanno coinvolto tutti in danze e corsi di ballo gratuito, musica e soprattutto la presenza di hobbysti con il vintage market bancarelle allineate al tipico format nostalgico anni 50, in breve un tuffo nel passato che rievoca anche il mitico sogno americano degli anni 60. Nel centro di Castiglion Fiorentino spazio alla Marcord con Happy Days, American Graffiti e tanto altro. Con la possibilità di apprezzare eccezionali vetture come la Cadillac, la Chevrolet Bel Air, la Harley Davidson, lo stesso modello comparso nella pellicola Easy Rider. Castiglion Fiorentino dunque per cinque giorni ha fatto un salto indietro nel tempo per la gioia dei tanti e sempre più numerosi appassionati di un'epoca che ha fatto storia e che si ricorda con grande piacere vista a volte anche la pochezza del presente.